Sono Pierluigi Gallo, l'amministratore della Made My Scalabre S.R.L. Siamo un'azienda che produce succhi e siamo posizionati nella piena di Sibari, il territorio che per vocazione produce le migliori clementine del mondo. Questo è il nostro succo concentrato, la base di tutti i nostri prodotti, quello che noi produciamo per le multinazionali e che oggi sta diventando il nostro core business. Da qui noi abbiamo elaborato la nostra prima bibita, Clemy, una bibita a base di succo di clementine della piena di Sibari, senza conservanti, senza coloranti e senza glutine. e pochi mesi fa abbiamo vinto il premio nazionale Oscar Green 2018. Per il valore che hanno le nostre clementine, il 9 luglio abbiamo inaugurato il primo museo al mondo, Muclem. Qui troverete la parte agricola, la parte storica, la parte artistica e la parte gastronomica di questo magnifico frutto. Veniteci a trovare! Grazie a tutti!